Ciao ragazzi, in questa lezione andremo a vedere come Roma si relaziona con il mondo orientale e in modo particolare con i principali regni ellenistici tra il III e il II secolo a.C. Regni ellenistici che noi abbiamo visto essere nati dopo la caduta dell'impero alessandrino, nello specifico dopo la morte di Alessandro Magno. Per il momento l'Egitto, che era il più ricco, il regno più potente, non è coinvolto. L'Egitto non vuole avere rapporti con i Romani perché effettivamente vede Roma come una minaccia, per cui cerca di perseverare nella scia della propria autonomia. Mentre Roma vedremo che entrerà in contatto con Macedonia, Siria e Pergamo e ne causerà fondamentalmente la fine. Il primo stato con cui entra in contatto Roma è il regno di Macedonia, che abbiamo visto essere il regno ellenistico più antico, perché effettivamente è quello che aveva dato i Natali prima a Filippo e poi ad Alessandro. La Macedonia praticamente decide di attaccare Roma durante le guerre puniche, in modo particolare durante la seconda guerra punica. Quindi mentre Roma, per intenderci, è occupata a lottare contro Annibale e non riesce ad avere inizialmente la meglio. Se ricordate si arriverà a chiamare un dittatore, Quinto Fabio Massimo, detto il temporeggiatore, quando Annibale avrà la meglio, molte popolazioni passeranno dalla parte di Annibale. Quindi mentre Roma ha giusto qualche problemino contro i cartaginesi, la Macedonia ne approfitta e contro Roma combatte tre guerre, le tre guerre macedoniche. La prima guerra macedonica viene combattuta tra il 215 e il 205 a.C., quindi siamo sulla fine del III secolo a.C. e il re di Macedonia, Filippo V, che cosa fa? Siccome vuole controllare l'Adriatico, quindi i commerci sul mare Adriatico, approfitta della debolezza di Roma e si allea con il suo antico nemico, cioè con Cartagine. Quindi mentre Roma combatte contro Annibale, Cartagine rafforza il proprio potere e si allea con Filippo V. Perché praticamente Roma, scusatemi, perché Cartagine decide di allearsi con Filippo V? Cioè potrebbe essere una minaccia anche Cartagine al dominio sul mare? Perché entrambe sono convinte che unendo le forze possono fermare Roma. Dall'altra parte, ripeto, l'intento di Filippo V è quello di avere il controllo sull'Adriatico, quindi vuole fermare Roma per poi prendere il dominio su quell'area dei commerci. Roma come reagisce? Roma è occupata a combattere contro Cartagine, per cui si allea con un altro regno ellenistico, il regno di Pergamo, che aveva interesse ad occupare i territori della Macedonia. E insieme a Pergamo e appunto a Roma si alleano, quindi a queste due unità, si alleano altre poleis greche che non vedevano di buon occhio il regno della Macedonia. E noi l'abbiamo visto che gli uomini della Macedonia erano visti dai greci quasi come degli stranieri, o comunque dei greci di serie B. Fatto sta che Roma riesce a sconfiggere la Macedonia, anche se impegnata nelle guerre puniche. E che cosa fa? Per tenersi buoni, tra virgolette, l'area orientale, le persone dell'area orientale, regala le terre conquistate al regno di Pergamo. Quindi Pergamo come alleato si rafforza sempre di più. In che modo vince Roma? Praticamente dopo le prime battaglie vittoriose, delega la guerra, affida praticamente la guerra a Pergamo. Cioè lascia che Pergamo e la Macedonia lottino tra di loro, in modo tale da potersi concentrare sul nemico cartaginese. Quindi spero sia chiaro il concetto. Roma sta combattendo contro Cartagine. La Macedonia vuole approfittarne per prendere il dominio sull'Adriatico. E allora che cosa fa? Si allea con Cartagine per andare contro Roma. Roma, a Roma non interessa in questo momento controllare l'Adriatico. Qual era il punto che permetteva a Roma di controllare l'Adriatico? Era Taranto. Ma in questo momento è che appunto era stato conquistato, la città era stata conquistata dopo le guerre pirriche. Roma in questo momento ha altri problemi, insomma, deve fermare Annibale. Annibale sta conquistando Mezzomondo. Quindi diciamo che la questione del Mar Adriatico interessa tanto quanto. E allora Roma che cosa fa? Gioca d'astuzia. Siccome è consapevole che tra i regni ellenistici ci sono delle lotte, perché sono frammentati, perché ognuno vuole conquistare il regno dell'altro, si allea con Pergamo, perché Pergamo aveva interesse a conquistare i territori della Macedonia. Quindi abbiamo Roma alleata con Pergamo e con altre città che ce l'avevano a morte con la Macedonia e dall'altra parte cartaginesi e macedoni. Roma continua a combattere contro Cartagine e dall'altra parte Pergamo lotta contro la Macedonia. Alla meglio ovviamente Pergamo, quindi Roma vince la prima guerra macedonica. Ma gli scontri continuano, per cui dopo cinque anni, nel 200 a.C., scoppia la seconda guerra macedonica, che viene combattuta dal 200 al 196, quindi siamo tra il III e il II secolo a.C. Roma ha vinto le guerre puniche, quindi può dedicarsi a questi scontri e a guidare l'esercito romano c'è il console Tito Quinzio Flamininio, che sconfigge la Macedonia. E addirittura nel 196, che cosa fa questo console? Gioca un po' d'astuzia, un po' quello che aveva fatto Filippo con le poleis della Grecia. Perché che cosa fa? Vince la guerra macedonica, ma si dichiara, in qualche modo protettore della Grecia, dichiara la libertà di tutta la Grecia. E dove lo fa? Sceglie proprio la città di Corinto per farlo. Corinto che era stata protagonista di una serie di ribellioni nel corso del tempo, anche in relazione alla popolazione della Macedonia. Allora che cosa fa? Di fatto Roma, dichiarandosi protettrice della Grecia, sostituisce la Macedonia nella tutela della Grecia stessa. Si pone alla tutela della Grecia delle poleis, della loro libertà. In realtà non è così, perché l'intento di Roma è approfittare della debolezza dei regni ellenistici per espandersi in Oriente. Diciamo che la Macedonia, quando ha innescato il meccanismo con la prima guerra macedonica, ha causato un effetto domino, perché ha tirato l'attenzione di Roma e Roma, approfittando della debolezza politica di quel regno, gradualmente lo andrà a conquistare l'Oriente pezzo dopo pezzo. Infatti vi dimostro adesso come. Quindi per il momento abbiamo la Macedonia che si è sconfitta due volte e Roma che è alleata con Pergamo. Le terre sottratte alla Macedonia sono state date come premio, tra virgolette, a Pergamo. Quindi Pergamo ha ottenuto delle cose buone, insomma, da questa alleanza con Roma. Allora, dopo la seconda guerra macedonica, quando appunto Roma si proclama, diciamo, protettrice della Grecia, i macedoni non ci stanno. E quindi scoppia la terza guerra macedonica, combattuta tra il 171 e il 168 avanti Cristo. La Macedonia non ci sta ad essere stata estromessa dal potere, non ci sta ad aver perso grandi parti del territorio, quindi dichiara guerra a Roma. A vincere nella battaglia di Pidna del 168 avanti Cristo, appunto, sarà Lucio Emilio Paolo. E una volta vinta la battaglia, nella battaglia di Pidna, quindi una volta conclusasi la terza guerra macedonica, che cosa succede? Roma porta avanti una importante operazione di distruzione di tutte quelle popolazioni, di tutte quelle poleis che avevano supportato la Macedonia stessa. Vengono presi anche numerosi ostaggi che in qualche modo si erano dimostrati filo macedoni, come ad esempio Polibio, lo storico che viene portato a Roma. La Macedonia viene conquistata del tutto, Corinto viene distrutta, e la Macedonia diventa provincia romana, macedonia che comprende anche la Grecia. Cioè praticamente Roma fa quello che De Mostene aveva ipotizzato in merito a Filippo. Filippo, se ricordate, era arrivato in Grecia apparentemente come protettore. In realtà il piano era conquistare, De Mostene aveva denunciato questo. Roma fa la stessa identica cosa, ma arriva a portare avanti il proprio progetto, perché conquista la Macedonia, ok, ma per Macedonia, diciamo, la Macedonia non basta a Roma. Roma si allarga, conquista anche la Grecia, perché qui si era dimostrata essere la sua forma di difesa, la sua tutela, quindi Roma conquista tutti i territori che un tempo appartenevano alla Macedonia e che non erano stati ceduti ancora a Pergamo, conquista la Grecia e crea appunto la provincia di Macedonia, che non è la Macedonia del regno ellenistico, ma comprende anche praticamente tutta la Grecia. E qui, ripeto, porta avanti delle pesanti repressioni nei confronti di quelle città che avevano supportato l'avanzata Macedonia. Mentre praticamente Roma stava combattendo contro la Macedonia, praticamente all'altezza, alla fine della seconda guerra macedonica e prima della terza, ne approfitta, in questo contesto, quando Roma prende il predominio sulla difesa della libertà della Grecia, ne approfitta un altro regno ellenistico, la Siria. Che c'entra la Siria? La Siria stava ospitando Annibale, perché vi ho detto che Annibale, dopo la seconda guerra punica, non viene ucciso. Parte praticamente in una sorta di esilio. Viene ospitato dalla Siria. Allora, approfittando di questa destabilizzazione politica, la Siria voleva espandersi anche lei. Allora che fa? Siccome sta ospitando Annibale, siccome ci sono queste guerre in corso, vuole prendere sempre più predominio. E allora dà aiuto a tutte quelle poleis greche che in qualche modo si stavano opponendo all'avanzata romana. Quindi scoppia la guerra siriaca, combattuta tra il 192 e il 189 avanti Cristo. Annibale è convinto di poter sconfiggere Roma, perché è forte dell'esperienza avuta prima della battaglia di Zama. Però, qual è il problema? Noi abbiamo visto che la forza di Annibale era legata in modo particolare alla sua cavalleria, la cavalleria numida, cioè la cavalleria di questa popolazione africana, proprio del nord Africa, che era confinante al regno di Cartagine. In Siria non c'erano questi cavalieri, non c'era questa parte dell'esercito, per cui nonostante lui fosse Annibale, non riesce assolutamente a sconfiggere Roma. Quindi, come si chiama? Annibale per la vergogna si suicida, la Siria perde la guerra, e i territori della Siria vengono ceduti, ancora una volta, a Pergamo. E qua vi voglio far notare una delle pagine più astute della storia di Roma. Roma sta conquistando, pezzo dopo pezzo, i principali regni ellenistici. La Macedonia viene sconfitta con tre guerre, e alla fine la Macedonia diventerà una provincia romana. Però, come la crea questa solidità e stabilità in Oriente? Dopo la fine della prima guerra macedonica, le conquiste non le prende per sé, le dà a Pergamo, cioè si rassicura, anzi, scusatemi, si assicura un buon alleato, perché, dando queste terre a Pergamo, Pergamo non avrebbe mai tradito Roma, perché, tra virgolette, ci guadagnava. Seconda guerra macedonica, Roma diventa il garante della libertà della Grecia. Scoppia, intanto, la guerra in Siria, le conquiste in Siria vengono regalate a Pergamo, quindi ancora di più Roma rafforza il suo concetto per dire Pergamo resta dalla mia parte, perché, insomma, ti delego il controllo in Oriente. Terza guerra macedonica, ciò che è rimasto della Macedonia e l'intera Grecia passano interamente a Roma. Perché la Grecia non va a finire a Pergamo? Perché a Roma interessava avere la Grecia, già aveva conquistato la Magna Grecia, adesso interessava conquistare la Madre Patria. Quindi Roma, praticamente, se escludiamo l'Egitto, che per il momento non è coinvolto, Roma, nel giro di 50 anni, più o meno, conquista i principali regni ellenistici d'Oriente, perché conquista la Macedonia, la Siria, e Pergamo lo tiene come alleato. Che cosa succede a Pergamo? Il regno di Pergamo, ragazzi, è il più grande regalo, tra virgolette, della storia per i romani, perché dopo la fine delle guerre macedoniche e della guerra siriaca, praticamente, muore il re di Pergamo e decide di premiare, tra virgolette, i romani che avevano permesso la crescita di questo stato e li premia in che modo? Lascia il re di Pergamo, lascia in eredità tutto il regno a Roma. Quindi alla fine Roma crea una grandissima provincia dal nome Asia, nel 133 a.C., che comprende l'ex regno di Pergamo, il regno di Siria e i tre quarti dell'antico regno di Macedonia. A questi, sommate il fatto che Roma aveva creato la provincia di Macedonia che comprendeva la Grecia, praticamente Roma controllava tutto l'Oriente, oltre al Mediterraneo, oltre all'Italia. Da questo punto di vista è stata una genialata quella di farsi amico, tra virgolette, il regno di Pergamo, perché appunto, per gratitudine, e qui stenderei un vero pietoso, il re di Pergamo lascia tutti i propri beni a Roma. Siamo nel secondo secolo a.C., 133, siamo sulla fine del secondo secolo a.C., Roma ormai è grandissima, vi ho visto che con le guerre puniche ha acquisito questa mentalità fatale, cioè convinta di essere la forma di stato voluto dagli dèi, che ha il dominio sulle acque, sulla terra, che conquista, che divide, che comanda, che è il centro del mondo. ma l'eccessiva crescita di Roma inevitabilmente, immaginatela come un palloncino che viene gonfiato all'inverosimile, arriva il punto in cui questo palloncino scoppia e così lo Stato romano, la Repubblica romana, se vive un periodo di splendore, diciamo, tra il terzo, diciamo, nel terzo secolo a.C., tra il secondo e il primo secolo a.C., invece, vive una profonda crisi, che porterà alla fine della Repubblica. Ora, la crisi di una... cioè, la caduta della Repubblica romana non è legata ad un singolo evento. Ci sono stati, ovviamente, delle cause, ci sono state delle cause storiche. Scusate, come avete sentito, sono dolcitofono. Dicevo, la crisi di un qualsiasi evento, naturalmente, comunque, le cause di un qualsiasi evento vanno a essere ricercate nel passato. Noi abbiamo delle cause occasionali, cioè delle gocce che hanno fatto traboccare il vaso, che nella nostra situazione sono degli eventi decisivi, cioè la crisi della Repubblica si concretizza nella crisi dell'età dei Gracchi, con la morte di Tiberio e di Caio Gracco, e poi con le tre guerre civili. Quindi, la prima guerra civile, Mario contro Silla, la seconda guerra civile, Cesare contro Pompeo, la terza, Marco Antonio contro Ottaviano. E, diciamo, che prima della seconda guerra civile e prima della terza guerra civile abbiamo avuto i due triunvirati. Ecco, se quelli sono gli eventi che caratterizzano la crisi della Repubblica Romana, le cause vanno trovate, ovviamente, prima, vanno trovate, diciamo, nel secondo secolo a.C. Quali sono queste cause profonde della crisi? Innanzitutto, ci sono dei cambiamenti sociali legati all'eccessiva crescita di Roma. Roma, appunto, come vi ho detto, si impone come potenza nel Mediterraneo e non solo. Ovviamente, crescendo così tanto, si potenzia l'esercito. Tutti vanno a combattere e quindi sparisce la figura del contadino soldato. Quindi, non è che si va a militare nell'esercito e poi si ha il tempo di tornare alle attività legate alla terra. Il soldato è un soldato di professione perché Roma è perennemente in guerra. Non sono più guerre di difesa ma sono guerre di conquista. ci sono delle classi sociali che stanno guadagnando tra virgolette dall'arte della guerra. In modo particolare gli equites. Quindi, gli equites commerciano, gli equites vogliono la guerra perché questo permette di avere contatti con nuove persone e quindi potenziano il commercio i contatti internazionali. Quindi, c'è una parte di popolazione che si sta arricchendo con questa campagna espansionistica. E dall'altra parte, invece, vediamo che perde sempre più potere il ceto aristocratico. i senatori che vivevano tra virgolette come proprietari di grandi appezzamenti di terra. Altra cosa, Roma ormai cresce a tal punto che nasce tutta una serie di province. Le province, abbiamo visto, che vengono amministrate da governatori. I governatori erano aristocratici e che cosa facevano? Aumentavano spesso e volentieri le tasse delle province per arricchirsi in modo personale. E allora Roma, tra virgolette, per facciata, istituisce un tribunale, il Tribunale de Repetundis, che aveva il compito proprio di condannare questi governatori che andavano a sfruttare la propria carica per arricchirsi ai danni dei provinciali. Dove era il problema? Perché detta così potrebbe essere anche una cosa buona il Tribunale de Repetundis. Il problema era che il tribunale che andava a condannare gli aristocratici era gestito da aristocratici. Quindi ovviamente non si andavano ad accusare a vicenda, era semplicemente una facciata. La giustizia non tutelava i cittadini. E dall'altra parte, soprattutto nelle province, scoppiavano spesso e volentieri delle rivolte perché i provinciali odiavano a morte i pubblicani, cioè coloro che andavano a richiedere le tasse per la res pubblica, ecco perché pubblicani. In modo particolare era molto vessata, era molto tartassata in tutti i sensi la provincia di Sicilia, una delle province più ricche di Roma, la prima provincia di Roma, chiamata il granaio d'Italia perché appunto riforniva l'intera penisola. A questi problemi diciamo legati al cambiamento delle classi sociali si affianca il problema della terra e dell'esercito. Che cosa c'entra questo? C'entra perché a Roma praticamente esisteva il concetto di ager publicus, cioè che cos'è questo campo pubblico? erano dei terreni statali che inizialmente venivano affidati ai cittadini per coltivarli per attività di pubblica necessità. Poi potevano essere utilizzati per fondare colonie e poi praticamente per diciamo sopravvivere tra virgolette nell'economia di sussistenza. Quindi io sono un cittadino, l'abbiamo visto con Geostoria, con la centuriazione si creavano questi lotti chiamati sortes e venivano dati a sorteggio. Quindi io non ero proprietario di quel terreno però ne potevo usufruire. Dove sta il problema? Siccome sta cambiando il rapporto tra cittadino e stato, nel senso che chi appartiene a classi sociali più elevate cerca di arricchirsi a danno degli altri, spesso e volentieri questi appezzamenti del larger publicus venivano occupati abusivamente ma non dal cittadino tra virgolette povero dai cosiddetti grandi proprietari terrieri che piano 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 si allargavano e creavano proprietà sempre più grandi. Quindi nasce il cosiddetto latifondo. Questo è come se per esempio io pago al demanio un'occupazione di 10 metri quadrati di spiaggia e piano piano perché voglio farci un lido e piano piano che cosa faccio? Mi ci faccio un muretto mi allargo mi allargo sempre di più e recinto quella zona è un abuso che io faccio perché sono appunto uno che vado ad occupare abusivamente un terreno che non è di mia proprietà ecco questi gli occupatori abusivi c'erano già nel mondo romano il latifondo nasce perché i grandi proprietari terrieri vanno ad occupare abusivamente pezzi di terreno statale che dovevano servire per la popolazione li annettono ai propri terreni e crescono sempre di più quindi tecnicamente comincia a mancare la terra quindi da una parte mancava materialmente la terra per permettere la sussistenza nello stato dall'altra parte i soldati non esistevano i soldati contadini non esistevano più perché stavano una vita fuori e quando provavano a ritornare non c'era più lo spazio materiale per poter per poter coltivare questo porta a un cambiamento radicale del costo del grano quindi c'è una crisi che riguarda anche l'aspetto sociale e l'aspetto economico in più ultimo problema nel latifondo chi veniva occupato non c'erano i contadini pagati ma venivano occupati gli schiavi per cui aumenta tantissimo la fascia dei capitecensi cioè quelle persone che non possedevano nulla perché appunto o andavano a combattere ma per combattere dovevi avere un reddito non sempre era possibile avere un reddito chi voleva coltivare non poteva perché non c'era terreno statale quel poco che c'era veniva dato appunto alle famiglie in base al censo il territorio statale occupato nel latifondo veniva lavorato dagli schiavi quindi aumenta la povertà quindi un po' aumenta la povertà un po' aumentano i prezzi un po' nelle province la corruzione della classe dirigenziale fa aumentare troppo le tasse Roma comincia a crescere troppo e a dismisura quindi non è facile accontentare tutti alcune classi sociali perdono potere come l'aristocrazia altre ne prendono come gli equites e lo Stato non tutela il cittadino tipo il Tribunale del Repetundis apparentemente dovrebbe tutelare i provinciali che non sono cittadini ma sudditi ma dall'altra parte è formato da aristocratici che non vanno a condannare altri aristocratici tutto questo provoca una vera e propria bomba doloroggeria che scoppierà alla fine del secondo secolo nella cosiddetta età dei gracchi ciao